Allora per la mia cazzo di smania di sconfiggere il crimine, per inseguire dei bambini bastardi, guarda che cazzo mi tocca fare Il finto paladino della giustizia Vai a vedere le ruote d'avanti Inzo Ferrari Bello E nessuno si azzardi a dire che le Cardinal non ha un buon servizio Allora con la marcia indietro piano piano lentamente Audi vs Toyota Tedeschi contro cinese Non ti voglio a credere Baffi, tu cosa ne dici? Enzo Ferrari la sconfitta Parte 2 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Mamma mia! Arato? Arato al prato, bene. Solo 6.000 euro di prato, ma va bene. Questo è il risultato. Questo è il risultato di tante spese. Quindi adesso dobbiamo tirare fuori Vincenzo. Adesso ha la prende la cosa. Ince! Non mi caga! Questa macchina Ince è come le donne, te la fa nasare, vedi? No, non puoi. Ragazzi, Buffy è un cane che ha freddo però. C'è il freddo? Tipo, non si sei bella. La mia macchina spacca. E' vecchia, ma spacca. Guardala quanto è bella. Tu non lo puoi lasciare. L'ultimo tentativo. Buffy! Buffy, ferma tu. C'è il freddo ideale qua. Buffy, ferma tu. Aspetta che... Ha fatto un ciocco? Vai a filmare. Avete fatto un ciocco? Non penso ragazzi, abbiamo fatto un ciocco. No, davvero. Vabbè, ci voleva così poco ragazzi. Vince tu? Tu sei stato... Tu sei realmente il fulcro della vita di tutti. Alla fine sei tu. Vittoria! Però ragazzi, date merito a... Il RAV4. Vittoria Rosica Vittoria Rosica Grazie.